Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci dilungheremo sulla presentazione di Francesca di nuovo, casomai appunto potete vederla nel primo appuntamento che è sempre online e passiamo subito al vivo di questo secondo incontro. Oggi si parla di storytelling e di raccontare il proprio brand artigianale. Quindi ci dedicheremo appunto a raccontare il lavoro artigiano, a come scrivere la pagina Chi siamo e la descrizione dei prodotti. Io do il benvenuto a Francesca e lascio direttamente la parola a lei. Grazie. Buonasera a tutti. Eccoci qua con questa seconda parte per capire un po' come organizzare e come lavorare per la propria attività artigianale online. Come diceva Rachele, saltiamo un po' le presentazioni e passiamo subito al sodo, ovvero a capire cos'è lo storytelling, che è un termine abbastanza abusato negli ultimi anni e soprattutto frainteso, ovvero lo storytelling non è semplicemente raccontare delle storie, come può essere appunto una fiaba, un libro, una storia qualsiasi, in realtà nel marketing lo storytelling è raccontare delle storie che siano inerenti chiaramente al brand, però con una strategia dietro, quindi con degli obiettivi e anche con una selezione delle storie da raccontare. Infatti lo storytelling è molto importante per, secondo me, principalmente per le aziende o per i piccoli artigiani. Questo perché chiaramente c'è un bisogno di distinguersi dalla produzione industriale. Non pensate che gli acquirenti siano in grado di capire, soltanto magari guardando le foto del vostro sito o del vostro negozio online, la differenza tra il vostro prodotto e quello di un'azienda che invece lo produce in maniera più o meno industriale. Questo perché, soprattutto in Italia, ma anche in altri paesi, negli anni c'è stato un po' un allontanarsi dall'abitudine a comprare prodotti artigianali. Ciò cosa ha comportato? Ha comportato che le persone non sanno nemmeno in realtà, a parte online che magari è più difficile perché soltanto dalle foto non si può capire la qualità e non si può percepire appieno come è fatto il prodotto. Molto spesso nemmeno di persona le persone sono in grado di capire questa differenza. Quindi raccontare il prodotto e anche tutto ciò che c'è dietro, quindi la storia del brand, qual è stato il percorso per arrivare insomma a quel punto, tutto anche cose un po' più tecniche, quindi tutto ciò che riguarda i materiali, il processo, aiuta un po' a far percepire il valore del lavoro che fate presso appunto gli occhi di chi non è un esperto, come la maggior parte degli acquirenti non sono, e anche poi far capire che questo prodotto che voi fate non nasce con uno schiocco di dita, non è assolutamente paragonabile alla produzione industriale, di conseguenza anche il prezzo non può essere messo sullo stesso piano. Quindi un altro aspetto molto importante è appunto quello di aumentare la consapevolezza del brand presso gli acquirenti o potenziali acquirenti. Cosa vuol dire aumentare la consapevolezza del brand? Vuol dire che grazie al vostro racconto che deve essere ovviamente unico e deve essere in qualche modo particolare e riconducibile solo al voi, le persone vi riconosceranno e vi distingueranno rispetto agli altri brand. Infine, e questo vale secondo me in particolar modo per l'Italia, perché qua chiaramente tutto ciò che è prodotto qua si può parlare di Made in Italy, è utile lo storytelling proprio per collegare il proprio brand e anche il proprio prodotto al territorio e alla cultura. Questo perché? Perché all'estero, ovviamente di più che in Italia, c'è questo desiderio sia di acquistare Made in Italy ma anche proprio di non solo comprare un prodotto ma comprare tutto ciò che c'è intorno. Quindi tutta la cultura italiana, tutto, se voi pensate quando vendete un prodotto a uno straniero in realtà non state semplicemente vendendo un oggetto, state vendendo un pezzo della vostra cultura, della vostra storia e chi lo compra sta comprando una parte della nostra cultura. Quindi intrinseco all'oggetto e al suo valore c'è non solo magari appunto il suo utilizzo o il suo scopo nella vita dell'acquirente ma c'è anche tutto ciò che è italianità. Se voi pensate appunto a tanti stranieri che impazziscono per l'Italia quando acquistano Made in Italy non stanno comprando una sciarpa, una borsa o delle scarpe ma comprano la dolce vita di Fellini, comprano tutti i film e tutti i libri prodotti in Italia, stanno comprando veramente un pezzo dell'Italia che chiaramente corrisponde ai loro sogni, al loro immaginario e in qualche modo comprarlo da qualcuno italiano accentua questo sentimento. E questo lo so anche perché quando appunto vendevo su Etsy come raccontavo la volta scorsa molto spesso c'erano questi commenti proprio da parte degli acquirenti per cui comprare in Italia non era lo stesso anche a parità di prodotto che comprare da un altro paese, proprio per tutto ciò che c'è dietro il Made in Italy, quindi insomma tutto l'immaginario che c'è dietro al nostro paese. Quindi diciamo non sottovalutate questo aspetto, soprattutto se create dei prodotti che hanno una forte tradizione, se utilizzano materiali che sono distintivi di un particolare territorio o se appunto sono espressioni di una particolare cultura. parto subito con un esempio che faccio vedere, no che non ho aperto, benissimo, ovvero quello dei fratelli Levaggi, non so se lo conoscete questo è un brand, in realtà è un'azienda da Ligure di Chiavari che costruisce sedie e ecco benissimo non si carica, allora ci riproviamo e la loro peculiarità è proprio per come hanno un po' costruito sia il sito sia un po' diciamo così una mitologia dietro il loro brand, infatti questa azienda è un'azienda familiare ma diciamo non è nata come si potrebbe quasi intuire o come diciamo così avevo quasi frenteso guardando il loro sito a fine ottocento, in realtà è un'azienda nata nel 1963 e quando si va sul loro sito e si soprattutto diciamo dall'home page si naviga anche velocemente questa pagina, cosa si percepisce? Chiaramente subito dai video che hanno messo come prima cosa, quindi uno apre il sito e la prima cosa che vede è questa qui, si percepisce che sono prodotti fatti completamente a mano e sono prodotti sia di design ma anche appunto legati sia al territorio ma anche a un certo modo di vivere la propria casa, quindi sono fatti con il legno, quindi sono prodotti naturali, poi scorrendo chiaramente insomma c'è tutta la parte di storia sul chi siamo e loro vedevano queste sedie che sono le Chiavarine, che sono delle sedie insomma con un design particolare che è nato proprio a Chiavari e cosa è successo? Diciamo loro hanno fatto questo lavoro, hanno collegato il loro brand alla tradizione di questa sede nonostante in realtà loro non siano dei discendenti di diciamo di chi ha inventato questo design, però sia parlando della storia della tradizione di costruzione della sede in sé sia poi facendo un'operazione del genere ovvero mettendo una foto recente perché chiaramente questi qua sono gli ultimi discendenti che sono giovani e sarà una foto insomma di qualche anno fa seppiata danno questa impressione di come dire di tradizione, di legame col passato, di conseguenza chi navigasse velocemente il sito potrebbe appunto pensare che questa azienda esiste da tanto quindi diciamo ha una lunga storia e questo insomma secondo me è molto intelligente perché comunque sia in effetti la sedia Chiavarina che insomma originata nel 1807 ha una lunga storia e loro la ricreano e la producono seguendo i dettami dell'epoca, ovviamente poi hanno anche altri prodotti però quello è il loro prodotto di punta. Quindi diciamo che si può guardando tanti brand che fanno un buon storytelling si può iniziare un po' a trarre degli insegnamenti. Quindi cosa fanno questi brand che hanno uno storytelling efficace? Di solito raccontano delle storie in cui i propri follower o potenziali clienti si riconoscono e per si riconoscono intendo che o diciamo si ritrovano in quei valori, in quei principi o semplicemente hanno quelle aspirazioni. Nel caso per esempio dei fratelli Levaggio e della sedia Chiavarina c'è tutto il discorso del legame col territorio e di un certo tipo di artigianalità che si è quasi persa in Italia per cui chi acquista da loro cerca quel mondo lì, altrimenti chiaramente comprerebbe le sedie Ikea. Quindi un'altra caratteristica che chiaramente non vale per tutti però spesso si può ritrovare è che i brand che appunto hanno uno storytelling efficace prendono una posizione sulle questioni che sono importanti per i follower e questa è una cosa più o meno recente ovvero negli ultimi anni e forse l'avrete notato seguendo magari sui social o anche insomma guardando gli spot in tv di tanti brand come non so Coca-Cola, McDonald's, Starbucks quasi tutti o forse addirittura tutti hanno preso chiaramente o in Italia insomma o a livello mondiale una posizione su delle questioni importanti di solito di tipo etico e questo cosa vuol dire? Vuol dire che i principi e i valori di un brand che appunto abbiamo un po' brevemente accennato la volta scorsa quando parlavamo della mission e la mission appunto è importante proprio per tirare fuori questi principi e valori sono fondamentali ed è fondamentale esprimerli perché poi i potenziali acquirenti possono riconoscersi possono averli in comune e quindi possono comunque apprezzare ancora di più il brand chiaramente per questi grandi marchi e grandi nomi è una cosa in più è più una cosa di affezione e di diciamo mantenere un certo pubblico per i piccoli brand in realtà secondo me sono fondamentali proprio per il discorso di farsi scoprire e distinguersi dagli altri brand concorrenti poi un buon storytelling provoca emozioni ovvero non è neutro non si può pensare di raccontare la storia del proprio brand o una descrizione in una maniera asettica questo perché? e questo in realtà è uno degli errori che fanno molti artigiani e piccoli brand perché un po' ci si allinea a certi modi della grande distribuzione io penso non so le descrizioni di Zalando o sì di similari in realtà non raccontano niente ma in realtà le persone non vanno lì per come dire per comprare qualcosa che corrisponde alla propria vita, alla propria aspirazione le persone vanno lì perché magari trovano il prezzo più basso o semplicemente cercano brand che già conoscono per acquistare e fare insomma magari con i saldi o con gli sconti e per le piccole attività questo non ha senso quindi cercare di imitare nelle descrizioni o anche nel racconto della propria storia quel tipo di attività non ha assolutamente senso perché l'essere asettici equivale a non essere memorabili quindi tutte queste cose servono anche a far scaturire nelle persone un senso di appartenenza e questo secondo me si può notare nelle piccole attività, nei piccoli brand se voi magari andate su Instagram e seguite qualche influencer barra artigiano o artigiana noterete anche leggendo i commenti che le persone che seguono questi brand si sentono parte di una famiglia in qualche modo o di una comunità questo perché? Perché appunto c'è una comunanza di valori magari una comunanza di visione e di aspirazioni che aiuta i follower a come dire legare tra loro e quando ci si sente parte di una comunità o di una tribù è più difficile poi lasciare quel brand per passare magari da qualcun altro perché è come tradire insomma una famiglia un'altra cosa importante è che diciamo quando si fa storytelling bisogna parlare il linguaggio delle persone a cui ci si rivolge e quindi e questo torniamo invece al lavoro sul target che abbiamo fatto la settimana scorsa bisogna capire bene a chi state parlando per parlare quella lingua lì diciamo l'esempio più classico è che chiaramente se il vostro target sono le persone, ne so gli adolescenti o i giovani che amano abbigliamento sportivo non ha senso parlare diciamo in maniera imbalsamata ma questo perché non capirebbero e ci sarebbe diciamo una totale separazione tra il target e il linguaggio che voi usate quindi lo storytelling quindi cosa fa? parlando diciamo effettuando tutte queste operazioni rende riconoscibile il brand rispetto agli altri per esempio se vi capita di leggere una descrizione sui social di una foto o una bio di un brand non è possibile che sia simile a quella di altri altrimenti questo lavoro è inutile perché se io leggo una descrizione potrebbe essere la descrizione di qualsiasi altro prodotto simile non state facendo bene questo lavoro infine un buon storytelling mette in primo piano il perché invece del cosa e come e questo diciamo è un po' un meccanismo che cercherò di spiegare brevemente ma se pensiamo con un esempio proprio per renderlo più palese forse uno dei primi a fare questo discorso è stato è stata l'Apple ovvero quando diciamo sono riusciti a diventare famosi come brand cosa hanno fatto? hanno scambiato ciò che veniva fatto di solito nelle pubblicità ovvero le pubblicità dei computer spiegavano le caratteristiche del computer quindi il cosa come faceva le cose che doveva fare e finiva lì invece l'Apple cosa ha fatto? è partita dal perché ovvero è partita dal senso di appartenenza e da come le persone volevano sentirsi e a quel punto è diventata in realtà non più semplicemente un computer o poi tutti insomma tutti gli altri prodotti che hanno fatto ma è diventato uno stile di vita infatti se qualcuno di voi ha il Mac oppure se conoscete qualcuno che diciamo come dire compra solo prodotti Apple sapete benissimo che non comprano altro nel senso iniziano si hanno il Mac poi hanno l'iPhone poi hanno l'iPad e quindi e soprattutto non li comprano soltanto per la qualità perché poi sì diciamo che per alcuni può essere una questione di qualità però diciamo di solito solo per chi fa grafica per chi fa video editing per la maggior parte delle persone si tratta soltanto di sentirsi appartenenti a una certa community e ad avere determinate caratteristiche quindi e quello vuol dire mettere in primo piano il perché quindi ciò che sta proprio alla base ciò che spinge le persone a desiderare quell'oggetto non per il suo utilizzo ma per ciò che rappresenta quindi passiamo subito alla pagina chi siamo con queste conoscenze quindi la prima cosa è sapere come dicevo prima chi state parlando ovvero il target quindi riprendete il lavoro fatto la settimana scorsa e eventualmente insomma cercate di tornarci sopra perché quella è la parte fondamentale che può servire in realtà per tutta la comunicazione online, offline per ogni decisione che prenderete la pagina chi siamo che appunto è la pagina o chi sono se siete una persona sola la pagina about insomma se avete il sito in inglese è di solito la pagina più visitata dei siti internet nonché quella dove le persone si soffermano di più questo immaginate che soprattutto per le piccole attività è quasi ovvio ovvero se non siete un brand famoso le persone vogliono sapere chi siete prima di comprare da voi di conseguenza passano del tempo a capire quindi sulla pagina chi siamo chi siete se siete delle persone vere diciamo dove siete insomma a cercare di scoprire un po' di più su di voi quindi a cosa serve la pagina chi siamo in primis ripeto per i piccoli brand che magari non hanno mai venduto online e sono sconosciuti serve a suscitare fiducia quindi serve proprio a trasmettere un senso di fiducia all'eventuale nuovo acquirente quindi serve a entrare in contatto con chi legge in contatto in quasi diciamo con un rapporto personale serve a dimostrare che capite chi legge ovvero il vostro target che deve ritrovare nella vostra pagina in qualche modo espressi i propri bisogni e i propri desideri così che sa di trovarsi nel posto giusto serve a empatizzare o meglio a fare empatizzare chi legge ma questo proprio per creare diciamo un legame di fiducia e serve anche a spiegare proprio come può aiutare queste persone a risolvere questi problemi o bisogni e infine serve a spingere all'azione ovvero immaginate che una persona si legga tutta la vostra pagina che si stiamo che può essere più o meno lunga poi vedremo insomma quanto deve essere lunga se arriva alla fine diciamo perché c'è stato un investimento appunto emotivo interessato ha trovato ciò che stava cercando a quel punto è un po' un peccato non fargli fare qualcosa anche in virtù del fatto che appunto è la pagina più visitata in genere del sito quindi fare spingere queste persone a un'azione che poi vediamo quali possono essere è un po' un modo per capitalizzare sul lavoro fatto per creare questa pagina quindi dicevamo che la pagina che siamo è un po' la storia dovrebbe essere la storia del brand chiaramente voi siete immagino piccole attività quindi persone singole o piccole aziende familiari e questa storia di solito per funzionare dovrebbe avere determinate caratteristiche diciamo quanto sto dicendo qui chiaramente può essere approfondito altrimenti ma sono semplicemente dei piccoli input che possono essere attuati senza dover diventare scrittori o copywriter anche soltanto per scrivere la vostra diciamo la storia del vostro brand o il chi siamo quindi una storia che funziona in questo caso una pagina che siamo che funziona mantiene alta l'attenzione chiaramente non vogliamo che il lettore dopo tre righe cada addormentato perché altrimenti avete perso un'ottima occasione per fare ciò questa storia dovrebbe essere divisa più o meno in tre parti questo diciamo è uno schema ripetuto da tutte le storie che siano le fiabe che siano i film o le serie tv ovvero divisa in hook hold e in pay off ovvero il gancio ovvero qualcosa che agganci l'attenzione che poi ti faccia rimanere lì a leggere l'hold ovvero qualcosa che ti mantenga interessato durante la lettura e il pay off finale che è praticamente un rilascio quando di solito nelle storie vissero felici e contenti che ti fa sentire insomma soddisfatto di ciò che hai letto un'altra caratteristica è che gli avvenimenti non sono presentati in una maniera sequenziale ovvero non è un curriculum non bisogna mettere tutti i fatti accaduti uno dopo l'altro in maniera cronologica perché semplicemente perché è noioso se voi pensate a qualsiasi libro o serie tv molto spesso gli avvenimenti sono costruiti in un intreccio quindi poi ci sono i flashback insomma si va avanti e indietro e il tutto non è semplicemente una sequela di di avvenimenti ecco un'altra cosa che chiaramente per la pagina che siamo può diciamo essere costruita in maniera non proprio come le storie perché non state scrivendo un libro è comunque che ci sono dei personaggi il protagonista il cattivo e questi personaggi sono mossi da desideri e non da fatto ovvero le cose non accadono perché devono accadere accadono perché i personaggi hanno dei desideri e cercano di soddisfarli stessa cosa per la vostra storia immaginate che chiaramente il protagonista siete voi o il vostro brand e il cattivo può essere semplicemente una serie di disavventure o comunque cose difficoltà che avete avuto e suppongo insomma che ne abbiate avute ma perché tutti diciamo gli esseri viventi ce l'hanno ed è inevitabile insomma vivendo avere delle difficoltà da superare e quindi c'è anche un percorso di trasformazione del protagonista ovvero non si parte se voi pensate a come eravate cinque anni fa non eravate gli stessi di ora anche soltanto diciamo per la storia più recente che abbiamo vissuto di conseguenza va raccontato un percorso e non basta semplicemente fare appunto un elenco di cose che vi sono accadute infine come dicevo prima deve essere scritto in un linguaggio che è adatto a trasmettere il messaggio passando un po' nel pratico nella pagina che siamo si possono inserire più o meno questi questi argomenti ovvero si può mettere la mission che è appunto quella che abbiamo fatto l'altra volta anche in formato un po' succinto e questa secondo me può fare da hook quindi da gancho se voi enunciate la mission all'inizio della vostra pagina che siamo chi legge capirà subito se si trova nel posto giusto quindi se il vostro brand è quello che fa per lui o per lei poi un'altra cosa fondamentale che molto spesso non viene fatta è spiegare chi c'è dietro al brand chiaramente se il vostro sito il vostro brand è presentato con nome e cognome come dire è un po' più semplice perché si capisce che è una persona ma comunque sia bisogna spiegare chi sei o chi siete quindi mettere le vostre o le vostre foto quantomeno i nomi e cognomi delle persone che ci lavorano anche questa cosa è veramente un poco diciamo poco usata questo questo contenuto da tanti brand il problema qual è? è che se non si capisce che siete delle persone vere la fiducia di cui parlavo prima è difficile poi da diciamo da elicitare perché? perché quando tutto scritto in maniera molto vaga non si capisce se siete una persona siete un gruppo siete una famiglia siete un'azienda siete una partita IVA o comunque una una ditta individuale troppe domande vengono in testa al lettore e quindi dove ci sono troppe domande dove ci sono i dubbi non c'è la fiducia di conseguenza anche la decisione di acquistare o meno può essere o rimandata o quantomeno semplicemente non 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 essere non esserci per niente quindi cosa ti ispira cosa ti piace non ti piace dove vivi queste sono tutte cose che potete inserire in questa parte un'altra cosa importante è proprio spiegare anche in maniera non troppo tecnica a seconda del target chiaramente a cui vi rivolgete cosa fate e come lo fate e anche come lo fate in maniera diversa dagli altri soprattutto ripeto se nel vostro lavoro utilizzate tecniche particolari è il caso di spiegarle anche brevemente in questa in questa pagina no? perché è dove insomma le persone poi trovano informazioni sulla vostra attività poi ci va la storia di come è nato il vostro brand anche lì in una forma di percorso come avete imparato a fare ciò che fate se appunto avete fatto dei corsi se è un'azienda di famiglia insomma tutto ciò che può darvi in qualche modo una qualifica agli occhi del lettore inoltre vanno appunto inserite le difficoltà che avete affrontato e come sono state superate eventuali avvenimenti importanti per il brand ovviamente e poi il processo produttivo che tecnica usi e che materiale usi e questo perché come dicevo prima serve proprio per far capire qualcosa in più all'acquirente in questa pagina che siamo potreste anche mettere le risposte alle domande più importanti e frequenti che in potenziale acquirenti si fanno sia sui prodotti sia sul brand in generale questo serve perché come dicevo prima essendo la pagina più frequentata è più probabile che magari le persone leggano lì queste domande piuttosto che una pagina a parte infine l'invito all'azione quindi che può essere o acquistare o iscriversi alla newsletter quindi l'invito all'azione è appunto l'invito al lettore di fare un qualcosa che per voi ha valore e non deve essere come non so andare a seguirvi e seguirvi sui social questo perché uno non volete che la persona esca dal vostro negozio perché poi non sapete se tornerà indietro due seguire sui social in qualche modo non vi porta diciamo vicino a un'eventuale vendita che è ovviamente lo scopo finale dell'avere un sito o un negozio online e quindi acquistare può essere un ottimo invito all'azione chiaramente non acquistare in maniera generica dovreste invitare ad acquistare un prodotto preciso che può essere il prodotto che vendete di più perché è quello che probabilmente avete pensato e creato per il vostro cliente ideale oppure un altro invito all'azione che è utile e come dire vi può portare vantaggi è quello di iscriversi alla newsletter questo perché la newsletter vi permette di raggiungere le persone direttamente nella loro casella di posta quindi non devono essere loro che vi vengono a cercare o sul sito o sui social ma siete voi che andate da loro come dire a casa loro a bussare a dire ok ho queste novità sul mio brand ho questa nuova collezione e di conseguenza diciamo le probabilità di vendita aumentano quindi un altro esempio è questo qui di Gaia Segattini che è una designer e influencer lei ha creato grazie a una collaborazione con un'azienda di Ancona vicino a Ancona e collabora con un'azienda lì delle marche per creare delle linee di abbigliamento accessori fatti con i materiali chiamiamoli così di scarto quindi tutti i filati che avanzano alla produzione e che appunto lei usa per creare delle serie limitate di maglioni sharp e quant'altro e la sua biografia la sua pagina che siamo secondo me è molto interessante perché perché mette un po' diciamo usa un linguaggio delle parole che poi ritroviamo in tutta la sua comunicazione come vedremo dopo quindi adesso io non la leggo tutta per questioni di tempo però poi magari la potrete leggere da soli però ho evidenziato come vedete dei termini no? quindi gioco di parole non convenzionale migliore qualità sostenibilità qualità ripetuto più volte onestà e rispetto verso il nostro cliente durabilità e rispetto dell'ambiente capi iconici pochissimi esemplari pazzo unico insomma da tutti questi termini uno si percepisce qual è il suo target ovvero il suo target sono appunto persone diciamo persone di con un gusto particolare quindi che non hanno un gusto per dire classico sicuramente e che amano cose diciamo un abbigliamento abbastanza sia appariscente ma al tempo stesso unico e particolare perché poi appunto lei fa principalmente pezzi unici o comunque serie limitate poi si rivolge sia uomini che donne non fa collezioni né stagioni quindi lei ha dei prodotti li riproduce a seconda di vari colori e combinazioni di colori a seconda della disponibilità e punta molto chiaramente sulla sostenibilità di questa produzione perché appunto è fatta con i residui di questa azienda che è un'azienda che lavora con grossi marchi e tutti i filati diciamo d'avanzole vengono riutilizzati e quindi non vengono buttati non vanno insomma né sprecati né diciamo non vanno né smaltiti con tutto insomma tutto il seguito di risparmio per quanto riguarda questo tipo di processi un'altra cosa su cui lei punta molto è proprio questa cosa del cliente infatti le ultime righe diciamo secondo me sono abbastanza indicative perché perché scegliere appunto una persona alla volta questa persona sia davvero speciale il suo obiettivo è far sentire speciali le persone che comprano da lei quando scrivete quindi la vostra pagina che siamo la domanda da farsi è questa qui ovvero questa bio potrebbe essere adatta a un altro brand se la risposta è sì magari insomma anche facendosi aiutare da qualcuno che la legge insieme a voi bisogna riscriverla perché è troppo generica è troppo banale non è specifica se la risposta è no allora vuol dire che va bene questo lo dico perché per colletto anche proprio insomma per questioni di lavoro tantissime bio di piccoli brand artigianali e veramente si fa fatica a trovare qualcosa di originale ma non originale perché bisogna diciamo scrivere un pulizzer semplicemente perché deve essere una bio che rispecchia poi tutto ciò che c'è a dire al brand quindi la peculiarità del brand stesso e se scrivendo questa bio si usano parole o una terminologia che è usata da altri se non si racconta la storia nello specifico e quindi si tende come spesso accade un po' per imbarazzo nella condivisione un po' perché sembra sempre che non si abbia abbastanza di cui scrivere il risultato è che la pagina che siamo sarà una pagina uguale a mille altre passiamo velocemente alle descrizioni cosa servono le descrizioni allora le descrizioni sono appunto dei prodotti chiaramente sono quel testo che nel vostro negozio accompagnerà le foto dei prodotti quindi non bastano le foto per vendere perché mentre nell'acquisto dal vivo si può toccare il prodotto si può insomma girarlo aprirlo chiuderlo sentire quanto è morbido insomma si può si ha un'esperienza tutto tondo quindi tutti i sensi sono coinvolti quando si compra online manca tutta una parte di questa esperienza e non basta guardare appunto la foto per percepire tutto e il resto quasi tutto ciò che rimane fuori dall'aspetto insomma dalle foto va raccontato quindi le descrizioni servono a fare questa cosa poi servono a parlare al target chiaramente quindi come abbiamo visto anche nella bio va utilizzato il linguaggio bisogna fare dei riferimenti che attirino un certo tipo di persone e non tutte un'altra cosa molto importante per le descrizioni è che servono a contestualizzare il prodotto nella vita di chi legge ovvero a proiettare il prodotto nella vita del lettore questo perché non è così scontato chiaramente le foto aiutano ma nel caso come spesso vedo anche di foto non ambientate quindi di foto che non contestualizzano di per sé il prodotto bisogna farlo con la descrizione altrimenti diciamo il prodotto rimane una cosa più o meno neutra e diciamo non tocca proprio l'immaginario del lettore e del potenziale cliente un'altra cosa molto importante per le descrizioni è che servono a rispondere a tutte possibilmente le domande di chi vuole comprare questo perché non è scontato che la persona li scriva non è come dire non è così scontato che una persona che arriva sul vostro sito sul vostro negozio online vedete le foto legge la descrizione e se qualche dettaglio manca per questa persona il dover cercare la vostra email o capire come scrivervi scrivervi aspettare la vostra risposta sono tutti passaggi in più che lo separano dall'acquisto di conseguenza sappiate che anche se qualcuno vi scrive per farvi domande quelle di solito sono le persone più interessate la maggior parte non lo farà quindi più informazioni mettete nelle descrizioni e più poi evitate questo disperdersi le potenze dell'acquirenti le descrizioni servono anche per dare informazioni pratiche sul prodotto e quindi ad aumentare il valore percepito del prodotto una descrizione ben fatta che racconta nel dettaglio sia appunto il prodotto come è fatto sia i materiali sia tutto ciò che c'è intorno chiaramente agli occhi dell'acquirente ne aumenta il valore perché come dicevo prima l'acquirente non è che queste cose le capisce semplicemente guardando la foto o le immagina perché molto spesso non è in grado quindi le caratteristiche di una descrizione che funziona sono le seguenti contiene la mission del brand anche in accenni non diciamo in forma estesa evidenzia quali sono gli aspetti del prodotto che sono rilevanti per il target questo perché perché chiaramente uno stesso tipo di prodotto se ha due target diversi può nelle descrizioni dovrebbe vedere messo in evidenza aspetti diversi immaginate una borsa capiente con non so delle tasche interne magari per una tipologia di prodotti per una tipologia di clienti che è la donna in carriera l'aspetto rilevante può essere appunto il fatto che si capiente che ci sono le tasche per organizzare tutti gli oggetti e che magari diciamo è abbastanza bella per uscirci pure la sera quando esce da lavoro per un'altra tipologia di clienti invece potrebbe essere che non so che è fatta con prodotti italiani che quindi la pelle non è trattata con prodotti chimici questo perché questo vanno messi in evidenza a seconda del tipo di clientela e quindi nella descrizione di fatto non va come dire scritto di tutto va semplicemente un po' selezionato vanno selezionati questi aspetti per per il target che avete inoltre come dicevo prima risponde alle domande o aspirazioni del target questo perché se il target ha particolari bisogni o aspirazioni o domande su quel tipo di prodotto bisogna che siano scritte nella descrizione perché come dicevo non è detto che vi scriva spiega anche proprio come è fatto il prodotto con che tecniche materiali e qual è l'ispirazione anche qua soprattutto per le tecniche non è che bisogna andare nel sopra specifico perché il vostro obiettivo non è insegnare all'acquirente come fare le cose ma in qualche modo suggerire che non è una qualcosa che è nato da solo insomma c'è del lavoro dietro questo è un aspetto diciamo la descrizione è formattata ovvero il testo è scritto in una maniera che sia ben leggibile e di facile consultazione è proprio una cosa diciamo tecnica immaginate appunto questo testo su questa slide la formattazione è quella appunto che vede i grassetti i corsivi gli elenchi puntati è importante che la descrizione abbia il testo suddiviso in paragrafi con degli elenchi puntati se ci sono delle informazioni schematiche da dare che ci siano dei titoletti questo perché perché voi pensate che oramai come dicevo l'altra volta gran parte della navigazione sui siti e degli acquisti viene su telefono su mobile quindi se il testo è un malloppo unico formattato giustificato trovare delle informazioni al suo interno informazioni che possono essere le misure i colori informazioni sulla spedizione o qualsiasi altro tipo di informazione vuol dire che per trovarle devo leggermi tutto e quindi diciamo la reazione probabile è che uno non non lo faccia invece se è formattata in una maniera da evidenziare le informazioni importanti e renderle fruibili per chi legge è più facile consultarla anche velocemente e anche da mobile poi la descrizione chiaramente deve contenere tutte le informazioni sia tecniche che pratiche riguardo il prodotto e per informazioni tecniche intendo pure diciamo per esempio se vendete delle lampade il tipo di attacco che lampadine ci va se va bene per quale tipo di corrente immaginate appunto di vendere anche all'estero quindi insomma come si monta come si usa cosa fare e cosa non fare e a questo insomma sono tutte informazioni che non bisogna dare per scontate perché ma perché non è detto che l'acquirente le sappia poi soprattutto se vendete all'estero dovrete anche un po' mettervi di fronte a vari tipi di culture tra cui per dire gli americani hanno una cultura molto più superficiale per tutto ciò che riguarda le cose pratiche ovvero sanno fare meno cose bisogna spiegare passo passo anche le cose che sembrano più stupide che ne so come come incorniciare un quadro perché ma perché molto spesso non ne hanno la più pallida idea infine la descrizione coinvolgente o meglio non deve essere anche lì un romanzo ma in qualche modo deve invogliare la lettura perché così si spinge le persone a leggere tutto in qualche modo è resa più memorabile e anche se la persona non acquisterà subito magari si ricorderà di quel prodotto grazie alla descrizione e quindi più avanti tornerà da voi quali elementi si possono inserire nella descrizione proprio così nel pratico l'ispirazione che hanno avuto per creare quel prodotto quale tecnica ha usato quali materiali se chiaramente soprattutto sono materiali di pregiati particolari la storia dello stile o del tipo di prodotto se ciò che fate è un prodotto tradizionale l'esperienza d'uso anche questa è una cosa sottovalutata l'esperienza d'uso vuol dire cosa si prova ad usare quel prodotto immaginate una sciarpa si può dire che è morbida che tiene caldo che è una nuvola che ti avvolge oppure nel caso di una tazza si può dire che diventerà la tazza preferita che userete quando prendete il tè delle 5 se il vostro cliente è un appassionato di tè se invece il vostro cliente beve il caffè la tazza sarà quella preferita per il caffè del mattino quindi anche lì contestualizzare l'oggetto nella vita di chi lo userà appunto con anche il posto il significato che avrà nella vita di chi lo acquista la provenienza chiaramente se vendete anche all'estero quindi che è fatta in Italia e anche spiegare come funziona e come può essere usato perché quasi ogni oggetto può avere più funzioni tornando alla tazza può essere usata per bere il caffè o il tè ma può essere anche usata come portapenne come un vasetto per mettere una succulenta insomma e questo perché perché se un oggetto può supplire a più usi il suo valore aumenta io ricordo per esempio un brand su Etsy che faceva degli sciogli di lino ed era molto secondo me le descrizioni pur essendo succinte erano molto interessanti perché spiegava che questo scialle poteva essere usato come sciarpa d'inverno in primavera poteva essere usato come pareo d'estate poteva essere usato come copertina per il bambino e quindi all'interno di un solo prodotto in realtà se ne compravano tre o quattro perché l'uso era molteplice le cose da evitare nella descrizione ma in generale diciamo per tutto sono appunto le espressioni banali quelle che si sentono sempre io qua non ho messo alcune ma ce ne sono tante altre quindi appunto regalo unico fatto a mano per te una cosa originale speciale questo perché in realtà poi le persone non è che comprano perché avete scritto che è una cosa unica in realtà l'unicità la dovete dimostrare o raccontare in altro modo i toni da vanna marchi ovvero diciamo i maiuscoli e tutti gli esclamativi ma anche lì dire che una cosa è bellissima stupenda non la rende bellissima stupenda bisogna capire come contestualizzare l'oggetto nella vita di chi compra i diminutivi non vanno diciamo usati perché sono un po' sminuenti l'eccessiva brevità le descrizioni di quattro righe parlano di diciamo poco impegno e quasi disinteresse a raccontare il prodotto e anche però l'eccessiva lunghezza perché una descrizione infinita non invoglia alla lettura diciamo che una lunghezza minima di 300 parole anche per diciamo questioni SEO tra le 300 e le 700 parole è una buona descrizione questo esempio dei banderari i banderari sono un brand di terni di dove sono io e loro creano accessori uomo anche donne sono principalmente accessori uomo con materiali pregiati e insomma ci fanno adesso beh chiaramente fanno le mascherine in questo periodo ma fanno papillon in seta e anche in altri tessuti particolari quindi cosa hanno fatti i banderari a parte il loro slogan appunto alleganza non convenzionale ma nelle loro descrizioni sono stati molto bravi proprio a raccontare i prodotti in particolare diciamo la loro linea che li ha un po' lanciati è questa linea di papillon creati con sete giapponesi loro cosa fanno comprano le sete giapponesi da Kobe che è una città appunto giapponese che è giomellata con terni e quindi appunto c'è anche questa cosa diciamo di unione tra le due città e creano questi questi papillon che sono tutti pezzi unici perché queste sede giapponesi sono prese da kimono vintage quindi diciamo più o meno dagli anni 20 agli anni 60 loro li distrutturano e poi ci creano diversi tipi di accessori tra cui papillon però chiaramente tagliandoli ogni pezzo è unico quindi se andate sul loro sito e andate a vedere le loro descrizioni troverete che nei papillon in generale in tutto prima ci sono i dettagli importanti per l'acquirente quindi non c'è qualsiasi cosa le prime righe sono contengono ciò che è importante per l'acquirente loro chiaramente di banderare rispetto a quel prodotto quindi che ne so si possono dare fatte un'alternativa per chi non è capace questo qua diciamo al gancetto non è diciamo non è quello che affiocco poi insomma il retro di Kashmir quindi raccontano bene tutto tutti i materiali in seguito c'è anche la storia quindi loro raccontano la storia della stoffa di per sé perché è un materiale particolare che ha una storia poi chiaramente mettono le condizioni di vendita e il packaging perché il loro packaging è super curato ed è un aspetto importante per il loro cliente perché o se lo comprano per sé o lo comprano per regalarlo comunque è una cosa importante anche perché appunto tutte le loro scatole sono anche loro più o meno o divise per collezione o pezzi unici quindi anche per la descrizione la domanda da farsi è questa questa descrizione può andare bene per un altro prodotto simile al mio ma di un altro brand sì o no se la risposta è sì bisogna riscriverla perché vuol dire che non racconta abbastanza che non è distintiva del vostro brand se invece la risposta è no allora diciamo state andando sulla buona strada passiamo all'ultima parte ovvero i social network quindi i social network non servono cioè non sono nati per la vendita anche se adesso facebook e instagram principalmente insomma ma anche altri stanno pian piano come dire diventando dei canali di vendita anche se non lo sono ancora forse lo sono a tutti gli effetti ma insomma sono molto peculiari in realtà i social sono nati per mettere in contatto le persone quindi se pensate avete visto il film sulla nascita di facebook se pensate a instagram in realtà dovete anche capire che le persone non vanno sui social network a comprare almeno non ancora le persone vanno sui social network per sbagarsi per parlare con gli amici per raccontare di conseguenza i social network sono il post dove potete creare un rapporto con il target quindi con i potenziali acquirenti perché perché potete installare una sorta di routine con i follower routine data dai post giornalieri che dovrebbero essere giornalieri poi chiaramente se fate un post al mese è un po' più difficile creare una routine e sono il post dove potete raccontare ciò che fate e come fate ciò che fate ma non diciamo in maniera statica in maniera in divenire questo perché mentre sul sito e sul negozio tutte le informazioni una volta messe rimangono lì quindi non è che cambiano nel tempo sui social c'è il meccanismo della quotidianità quindi potete un po' sia far entrare le persone nella vostra vita e quotidianità di gestione dell'attività sia entrare voi nella loro vita e questo appunto grazie a un racconto condiviso e giornaliero quindi i social sono anche molto utili per far entrare i vostri prodotti nello stile di vita di chi vi segue questo perché va perché potete appunto raccontare tutti gli aspetti che non avete raccontato nelle descrizioni quindi è anche proprio diciamo far vedere tutti gli aspetti del prodotto che non sono entrati magari nelle foto del sito ogni racconto delle descrizioni infine un'altra cosa importante anche questa molto spesso dimenticata è che i social appunto in quanto se avete una pagina facebook o una pagina instagram sono parte della vostra comunicazione del brand quindi sono un'attività del brand del non personale servono a ricordare i vostri follower dove acquistare i prodotti questo perché ma perché anche quello non è scontato quindi non è scontato che le persone sappiano dove andare a comprare il prodotto che vedono sulla vostra pagina facebook chiaramente potete avere la vetrina potete avere il link e tutto quanto ma diciamo che anche per conformazione per come ha costruito facebook non è detto che le persone vadano a cliccare quindi ricordare spesso se non sempre che il prodotto di cui state parlando nelle storie di instagram o nel post di facebook può essere acquistato sul vostro sito e mettere il link diretto quindi salvare un po' di tempo e anche un passaggio alla persona al follower che non deve andarsi a cercare dove cliccare è la cosa che vi aiuta anche poi a usare i social come modo di vendita che tipo di contenuti si possono mettere sui social in realtà chiaramente tantissimi questi sono soltanto alcuni diciamo io questi li ho messi come suggerimento perché molto spesso le persone dicono non so cosa scrivere sui social in realtà visto che voi create i vostri prodotti di argomenti di conversazione diciamo li dovreste avere veramente a bizzeffe dovreste diciamo esplodere di argomenti di conversazione quindi ci sono soltanto alcuni input sui social potete parlare dei prodotti work in progress ovvero dei prodotti su cui state lavorando lo potete fare con i post lo potete fare con le storie questo aiuta anche sempre diciamo nell'ottica di cui parlavo prima di far capire alle persone tutto il lavoro che c'è dietro a un prodotto anche perché poi se seguite degli artigiani magari anche insomma famosi avrete visto che molto spesso tutti i video di creazione sono quelli più visti immaginate non so se conoscete questo ceramista della Danimarca mi sembra perché si copenhagen che si chiama Tortus tutti i suoi video di lui che fa questi vasi sono stravisti ma in realtà tutti i ceramisti che seguo hanno i video stravisti ma perché perché comunque c'è una fascinazione per le mani in movimento che è credo atavica ogni volta che ho partecipato a una fiera con degli artigiani e tra questi quelli che si mettevano lì a fare le cose quelli che potevano chiaramente a mano erano quelli poi che attiravano di più l'attenzione e vendevano di più perché poi le persone si incuriosiscono si mettono a chiedere e non è stato raro che le persone che si fermavano a vedere l'artigiano che creava poi dicessero dopo un po' dopo che la persona aveva spiegato come si creava quel prodotto erano gli acquirenti stessi a dire guarda che il prezzo che hai messo è troppo basso perché poi dopo che sapevano le ore di lavoro vedevano la tecnica magari particolare si stupivano del prezzo che in realtà sembrava veramente basso quindi questo per farvi capire che mostrare il come si fa le cose non è rivelare dei segreti perché tanto poi se una persona non è capace non lo farà mai anzi è proprio un modo per far capire quanto tempo ci vuole quanto è difficile e quindi in qualche modo giustificare il prezzo potreste far vedere la postazione di lavoro quindi tutti gli strumenti che usate chiaramente i prodotti finiti vanno fatti vedere o prodotti anche che stanno per essere spediti nel caso vendiato online e che quindi abbiate già degli acquirenti altri elementi del brand che magari di solito non mostrate sul sito ovvero come so il packaging o la cura del cliente il packaging secondo me è particolarmente importante come ho detto per i banderari perché soprattutto per alcune tipologie di clienti può essere un po' una cosa che fa scattare diciamo la decisione di comprare da voi o meno un po' perché comprare online per molte è un po' forse un regale quindi ricevere un prodotto con un buon packaging vuol dire come dire subito avere una buona impressione inoltre si può anche parlare della cura del cliente quindi mostrare un po' anche in forma anonima le interazioni con i clienti e i clienti soddisfatti potete mostrare i nuovi prodotti a cui state lavorando e chiaramente come fate a fare ciò che fate un'altra cosa che potete far vedere sui social che non potete magari mettere sul sito sono dei collage ovvero delle composizioni ispirazionali per associare il vostro prodotto a prodotti complementari vostri o di altri brand sempre nell'ottica di proiettare l'oggetto nella vita di chi potrebbe comprarlo come dicevo prima tutti gli usi del prodotto raccontare ovviamente come dicevo i social sono un posto dove instaurare le relazioni quindi il racconto personale in una misura che vi è congeniale va fatto si possono raccontare le ispirazioni le cose che vi amate i materiali che usate possono essere raccontati molto in dettaglio rispetto magari a una pagina statica sul sito raccontare dove vivete perché soprattutto se vi rivolgete all'estero questa cosa è molto interessante spiegare le tecniche che usate chiaramente avvertire degli eventi a cui parteciperete in breve tutto ciò che riguarda il brand può essere interessante per i clienti e che magari non riuscite a mettere sul sito quindi la cosa appunto importante è che per ogni foto dei prodotti sui social ci deve essere un po' di informazione cioè mettere la foto con una sfilza di hashtag nel caso di instagram o semplicemente un link non ha senso perché perché chiaramente la persona insomma non è invogliata né a leggere né a guardare quindi diciamo evitare di fare questo tipo di post sarebbe meglio le cose appunto da non fare sono i post senza testo con solo un link perché dà un po' quell'impressione di spam le polemiche o raccontare i fatti troppo personali anche questo di solito insomma non è come dire consigliabile mettere i contenuti altrui questo perché perché se io vengo sulla vostra pagina facebook o sul vostro profilo instagram non capisco subito che fate quella cosa lì e quindi magari che ne so avete condiviso link interessanti o magari anche amici e concorrenti però qual è il problema che i vostri contenuti si diluiscono quindi ciò che riguarda il vostro brand si diluisce tra tutto il resto e le persone magari non capiscono che voi siete avete un'attività che crea quel tipo di prodotto quindi diciamo che idealmente tutto ciò che mettete sui vostri social dovrebbe essere che dovrebbe riguardare il vostro brand al limite una volta ogni tanto mettere qualcosa che diciamo non vi riguarda ma insomma in maniera un po' più rara infine anche usare un tono finto che non vi appartiene non è consigliabile e per il tono di voce in realtà l'unica cosa da fare è un po' provare finché non si trova quello giusto invece le cose che consiglio di fare sono dialogare con i follower quindi interagire con essi tramite commenti tramite qualsiasi appunto modo di rispondere chiaramente se vi fanno delle domande usare l'ironia quindi un po' di leggerezza perché le persone vanno sui social per stare bene perché se insomma vengono sul vostro sito sulla vostra pagina facebook e si reprimano non va bene scrivere scrivere in italiano anche lì insomma cercare un po' di evitare errori di spelling che capitano sempre però insomma rileggere 50 volte raccontare dei fatti personali però appunto non andando troppo nel privato però comunque servono per creare questo rapporto di empatia e non dare niente per scontato ovvero non presupporre che se parlate in un post di una cosa che avete detto sui social una settimana fa le persone riescano a capire perché poi considerate che ci sono sempre nuovi follower quindi se io vi seguo da oggi ciò che hai detto ieri è improbabile che lo veda allora siamo un po' fuori tempo quindi cerco di andare questo diciamo un esempio al volo di social instagram fatto bene però sono c'era una bolla perché fanno candele e fanno saponi e sono molto brave perché uno sui loro social parlano ci sono praticamente soltanto i loro prodotti i loro post sono molto personali perché raccontano anche le loro storie la loro vita e anche i loro principi e i loro valori quindi le persone che le seguono si possono identificare in questi principi e valori un altro esempio è Gaia Segattini rispetto anche alle parole evidenziate prima se voi andate sul suo profilo potete vedere che più o meno tutte le parole evidenziate emergono con un aspetto o con un altro quindi ci sono se uomini che donne ci sono persone di ogni forma ci sono non solo le foto appunto degli shooting fatti dal fotografo ma ci sono anche le foto magari fatte insieme ai clienti o agli amici questo proprio per dare questo senso di comunità e di coinvolgimento la comunicazione chiaramente non è convenzionale rispetto a tanti altri brand di moda e si vede molto spesso appunto il dietro alle quinte della produzione ovvero si vede come fanno le cose quindi i materiali e proprio letteralmente chi le fa quindi la signora dell'azienda che si occupa di rifinire i maglioni questi brand hanno in comune che in realtà tutti i contenuti sono fatti da loro non hanno un'agenzia non c'hanno qualcuno che che gestisce social posto loro quindi se loro ce la fanno potete farcela pure voi parlano sempre o quasi sempre dei prodotti quindi ogni post anche quando diciamo come dire ha degli argomenti che sono personali però poi il prodotto è contestualizzato quando parlano dei prodotti non lo fanno in una maniera noiosa né spammosa ma li inseriscono sempre in una storia e queste storie di solito insomma aiutano un po' le persone a riconoscersi in questo racconto e il loro tono è diverso chiaramente io se leggo un post di c'era una bolla anche se i prodotti sono diversi chiaramente un post di cagliari e cattini io molto probabilmente riconoscerò anche soltanto senza guardare la foto chi è chi raccontano poi i fatti propri ma diciamo non lo fanno in maniera né ossessiva né pesante lo fanno in una maniera come posso dire che ha senso sia per il brand sia per i loro follower infine mostrano se stesse perché come abbiamo visto insomma ci sono le galle e i gattini loro sono le ragazze dicono una bolla e quindi insomma si fanno vedere non c'è un fantasma dietro il brand quindi e qua concludo raccontare usare lo storytelling per il proprio brand in realtà è difficile sì ma non è impossibile ovvero cercate proprio di andare un po' alle basi di ciò che vi muove di ciò che vi spinge a creare e cercate di raccontare anche ciò soltanto che vi interessa questo perché perché più passione ci metterete e più passione trasparirà dal vostro racconto immaginate sempre di parlare a delle persone non a delle entità astratte e questa è la cosa fondamentale perché poi le persone dall'altra parte lo sentiranno questo sforzo e anche questo insomma modo di contatto ok io direi che ho finito passerei alle domande eccoci qua grazie mille Francesca e allora io vi ricordo appunto per inviare le vostre domande potete scrivere all'indirizzo categorie chiocciola uaf.it oppure via whatsapp al numero 342 86 65 972 pronto mi senti ok in realtà ho solo ricordato il numero il numero per fare le domande e l'indirizzo mail a cui inviarle abbiamo già una domanda che è un po' legata anche all'ultimo argomento che hai trattato che è su come gestire i tempi della comunicazione rispetto ai tempi della produzione soprattutto per le imprese artigiane che molto spesso sono imprese monoaddetto cioè quindi l'artigiano fa fa tutto e pur considerando la comunicazione importante hai degli esempi di qualcuno che sa gestire bene al meglio questa cosa cioè quali suggerimenti puoi dare allora in realtà gli esempi che vi ho dato appunto che gli assegattini che vabbè si appoggia ad un'azienda esterna però poi fa tutto lei e anche le ragazze dicerano a bolla fanno tutto loro il discorso qual è? che capisco appunto il problema di mettere insieme diversi aspetti del lavoro come appunto la produzione e tutto il resto la comunicazione secondo me il segreto non risiede in chissà cosa semplicemente bisogna organizzare il lavoro in maniera da fare questo e quell'altro una cosa che fanno tutti gli esempi che vi ho fatto vedere è che riciclano molti contenuti ovvero chiaramente la produzione non è continua perché poi quando uno fa le cose fatte a mano non ci vuole del tempo e non sempre si hanno dei prodotti nuovi da mostrare semplicemente quando si ha un prodotto che si sta facendo si fanno tante foto e poi si distribuiscono nel tempo non è che ci deve essere la contemporaneità tra la produzione e la comunicazione è questo che voglio dire si può semplicemente accumulare contenuto e contenuti quando si ha il materiale poi si distribuiscono nel tempo finché non si ha del nuovo materiale da non si hanno dei nuovi prodotti da fotografare o da raccontare poi chiaramente come dicevo non è che bisogna raccontare soltanto i contenuti le cose da raccontare sono veramente tante semplicemente bisogna fare in modo uno di essere costanti e usare i social in maniera frequente perché quello diciamo è la prerogativa per farli funzionare perché se si fa un post a settimana su facebook o instagram è praticamente inutile è come se non si facesse niente quindi da quel punto di vista è aver sprecato del tempo perché tutto quel materiale lì non ha alcuna efficacia perché un post a settimana non sarà visto da nessuno la seconda cosa è di essere abbastanza furbi appunto come dicevo da riciclare i contenuti quindi immaginando pure che sui social le persone uno non tutti vedono tutto quindi perché se usate facebook o instagram avrete notato che ogni post raggiunge solo una percentuale dei follower di conseguenza in questa ottica un post un contenuto che avete usato tre mesi fa potreste riusarlo perché perché è qualcosa che non tutti hanno visto quindi chi l'ha visto magari non se lo ricorda chi non l'ha visto perché semplicemente non è stato raggiunto oppure perché non vi seguiva a quel tempo può vederlo come se fosse nuovo quindi diciamo cercare di attuare un po' di strategie per fare in modo di risparmiare un po' di tempo però tra un po' stesso anche essere costanti perché altrimenti diciamo non c'è non c'è utilità spero di aver risposto sì grazie l'altra domanda arrivata è questa considerando un sito istituzionale non di e-commerce i suggerimenti le indicazioni che hai dato tu sulla pagina chi siamo sulla descrizione dei prodotti sono comunque valide ma anche su un sito istituzionale proprio che racconta il brand che descrive quello che si fa in azienda allora secondo me dipende dal tipo d'azienda ovvero se è un'azienda relativamente piccola sì vale tutto perché chiaramente insomma ci sono delle persone che lavorano dietro a questa azienda e quindi vanno in qualche modo raccontate per le aziende un po' più grandi e strutturate in realtà anche lì bisogna secondo me raccontare chi fa cosa ma questo perché ovviamente il tono di voce il tipo di argomenti possono variare a seconda del target perché immagino se un target è medio alto non bisogna diciamo raccontare che ne so mi piace la cioccolata o non mi piace uscire la sera perché non ha senso in qualche modo bisogna contestualizzare i contenuti però il racconto sia delle persone ma sia della storia dell'azienda è comunque fondamentale perché vale per tutti perché il problema di tante aziende anche medie italiane è che vai sulla loro pagina chi siamo e non c'è assolutamente niente ci sono quelle francesca ti davo solo c'era un'ulteriore informazione che l'azienda produce divani e tende su misura magari che può essere utile sì sì ma in realtà appunto secondo me ha sempre senso uno raccontare anche le aziende diciamo più grandi e farli in una maniera da far trasparire le persone che ci sono dietro e questa cosa per esempio se guardate le pubblicità di divani e divani gli famosi artigiani della qualità non è un caso che negli ultimi anni abbiano messo appunto come faccia dell'azienda nella pubblicità delle persone presumibilmente che ci lavorano poi chiaramente magari non è vero no? però perché? perché ciò che fanno trasparire sono che dietro l'azienda ci sono persone che ti puoi fidare che sono la mano ma quello è una cosa che fanno loro ma in realtà è un trend che anche per dire la Feltrinelli non so se vi è mai capitato la Feltrinelli o in altre librerie di trovare i box di libri di libri selezionati con il nome libri selezionati da questo proprio perché? perché in realtà il rapporto personale con con un brand supera ogni cosa no? perché perché chiaramente se no c'è questa cosa del brand o del marchio o dell'azienda come un'entità astratta che non è proprio che invogli all'interazione o anche semplicemente ad informarsi di più quindi diciamo trovare il proprio modo sicuramente a seconda del tipo d'azienda a seconda del target a seconda proprio di ciò che si vuole raccontare però ripeto mantenere a mente che si sta parlando a delle persone non si sta parlando a una massa in forme di individui le persone che leggono lo capiscono se ciò che è stato scritto è stato scritto con in mente i propri bisogni oppure no perché appunto la pagina che siamo comunque deve dare delle informazioni e queste informazioni devono creare fiducia se nella pagina che siamo appunto non trovo niente se non dei concetti astratti o delle parolone fuffose messe lì diciamo così un po' soltanto per fare impressioni il risultato è nullo ecco spero di aver risposto sì altra domanda cosa ci puoi dire di facebook business forse qua non so se si intende appunto business manager o facebook facebook business magari puoi puoi dirci qual è la differenza tra aprire un gruppo o una community e quale di queste quale tra queste due può essere più commercialmente utile allora stai parlando di facebook immagino nel senso sempre per quanto riguarda la comunità allora non ho capito bene su facebook business a cosa si riferisce se appunto al business manager o cosa nel senso per la pubblicità immagino di magari su questa parte allora lì secondo me e per questo vale per tutti i social diciamo che la crescita organica diciamo non può essere sopperita appunto alla pubblicità ovvero mentre con la pubblicità chiaramente si si possono raggiungere nuove persone quindi ogni tanto insomma al caso di farlo e di stabilire un budget per farla in qualche modo il racconto organico del brand è quello che rende i clienti affezionati diciamo che l'obiettivo non dovrebbe essere semplicemente la vendita e basta questo perché perché con la pubblicità molto spesso si possono raggiungere persone che sono appunto gli acquirenti quelli fugaci che vedono la cosa ok la comprano però poi non tornano l'obiettivo appunto è quello di creare una community intorno al brand quindi una base di fan e di potenziali acquirenti che segue il brand che è affezionato che compra e torna a comprare anche più volte perché altrimenti la fatica di dover conquistare ogni volta nuovi clienti diventa sproporzionata soprattutto per le piccole attività per le piccole attività vuol dire che anche soltanto come investimento sui social per la pubblicità deve essere diciamo è un incide in maniera molto più grande rispetto alle grandi attività che possono investire letteralmente milioni di euro quindi io diciamo più che puntare sulla pubblicità o su appunto fare pagare per raggiungere persone o meglio ci punterei però in maniera abbastanza selettiva la comunicazione costante e diciamo studiata sui social invece permette proprio di fare questo discorso per quanto riguarda la community sempre su facebook non posso essere proprio d'aiuto perché diciamo che non sono una social media manager e non non utilizzo quegli strumenti devo essere sincera perché facebook non è proprio il mio pane quotidiano in generale dipende appunto da cosa puoi raggiungere con con questo con questo gruppo community bisogna guardare le caratteristiche e capire se vanno bene per per gli obiettivi insomma ok per i post condivisi su più social per esempio l'indicazione di un link in che modo dare informazioni velocemente quindi magari anche risparmiando tempo può essere utile appunto condividerli tra più social o è bene creare dei contenuti ad hoc per ogni social e il blog è uno strumento sempre valido per informare il cliente allora per quanto riguarda la condivisione dei contenuti uguali su social diversi in realtà allora i social media manager ti dicono no non si fa perché giustamente ogni social ha uno un suo pubblico quindi appunto instagram magari ha un pubblico più giovane rispetto a facebook ma anche proprio come tipo di utilizzo del social quindi su instagram le persone agiscono in un certo modo sono abituate a fare determinate cose su facebook altre cose quindi diciamo l'ideale sarebbe che ogni social dovrebbe avere i suoi contenuti studiati per quel social poi ovviamente c'è la realtà ovvero nella realtà come dicevamo il tempo è poco quindi secondo me se non si ha tempo allora o si fa una scelta su quale social puntare quindi si cerca di capire dove è il proprio target quindi qual è il social più usato dal target e si usa solo quello proprio per diciamo evitare di usarne dieci in maniera sbagliata oppure si fa questa cosa di condividere gli stessi contenuti su più social però anche lì con la consapevolezza che magari su un social o sull'altro saranno meno efficaci quindi lì controllare pure che ne so le statistiche capire le interazioni se ci sono o non ci sono perché altrimenti è inutile no? anche un po' in senso sì tanto quel contenuto ce l'hai però io più che altro farei un mix ovvero alcuni contenuti che possono andare bene per entrambi i social magari appunto metterli su entrambi per risparmiare tempo però una parte di studio di contenuti diversi lo farei perché appunto magari su Facebook puoi mettere i link o puoi mettere non so le gallerie in maniera un po' diciamo un po' più fruibile rispetto a Instagram su Instagram puoi fare le storie che anche su Facebook ma non so quanto funzionano le storie di Facebook insomma si può fare secondo me un mix in maniera di un po' risparmiare tempo perché appunto alcuni contenuti si possono mettere di qua di là però d'altra parte non mettere esattamente le stesse cose perché poi chi segue sia l'uno che l'altro potrebbe trovarsi contenuti doppioni insomma che non è non è piacevole ecco e non invita più che altro all'interazione non invitando all'interazione cosa succede che poi quella persona lì vedrà sempre meno quei contenuti i tuoi contenuti qualcuno specifica che Facebook business ha una nuova funzione che è quella dello shop può essere utile magari collegata a un e-commerce o utile di per sé penso che intenda la vetrina allora sì esatto allora in quel caso secondo me dipende sempre io per questo sbatto sempre sul target del brand ma perché dipende tanto se il vostro target sta su Facebook ovvero se la vostra diciamo tipologia di acquirente su Facebook e lo usa anche per comprare allora ha senso se non c'è non ha senso perché probabilmente non verrà mai a comprare dalla pagina Facebook quindi anche lì fare delle prove secondo me è sempre auspicabile per sperimentare un po' perché poi non c'è una soluzione che vale per tutti quindi fate delle prove e vedete se funzionano no quindi perché altrimenti non è non è fattibile però ecco se avete ben chiaramente in testa a chi vi rivolgete secondo me già lo capite se per esempio su Facebook ci sono le persone oltre più o meno i 45 anni o quelle più giovani è probabile che ci siano le più giovani o usano Instagram e ovviamente quelli ancora più giovani magari usano altri social quindi chiaramente se il vostro cliente ideale o il vostro target entra in questa demografica di Facebook allora magari sì aprire la vetrina sulla pagina vi aiuta perché comunque è un altro modo di esporre le persone ai vostri prodotti altrimenti non ha molto senso più che altro insomma perdete tempo per crearla e poi non serve influencer e unboxing sui social ha senso per raccontare il proprio brand appunto appoggiarsi anche a qualcun altro che attraverso questi regali o no per l'artigianato allora esatto per l'artigianato secondo me ma questo se ne sono accorti allora mentre per le aziende grandi che hanno diciamo budget importanti molto spesso per regalare dei prodotti non cambia niente no a livello proprio di economico per piccole attività può fare la differenza allora sugli influencer secondo me bisogna scegliere quelli più adatti a raccontare il vostro prodotto perché altrimenti è uno un tempo sprecato due non avrete risultati quindi scegliere bene l'influencer sceglierlo in maniera che sia che non solo abbia tra i propri follower potenzialmente il vostro target ma sia anche poi in grado di raccontare il prodotto perché comunque se pensate agli influencer che fanno soltanto gli unboxing pensate pure che quanti ne fanno a settimana e quante persone poi vanno realmente a comprare quei prodotti no è improbabile piuttosto che scegliere magari chi fa solo quello meglio andare su profili anche magari più contenuti come numero di follower e quindi non che ne abbiano decine di migliaia o centinaia di migliaia però che abbiano uno delle interazioni diciamo sostanziose con i propri follower abbiano un seguito che sia ben definito e sia molto ricettivo possibilmente che amino il vostro prodotto perché poi è quello secondo me anche che fa la differenza e poi che siano in grado di raccontarlo quindi andate a vedere le storie andate a vedere i post leggete sia le descrizioni ma anche poi i commenti e le reazioni a questi a questi post perché sennò diventa anche lì un po' una perdita di tempo e di soldi diciamo che si può provare anche lì dipende dal prodotto perché immagino insomma quelli più costosi siano un investimento maggiore però io eviterei o gli influencer che diciamo generici che non hanno un seguito ben definito con e che coincida con il vostro target questo perché lì le probabilità che qualcuno compri si disperdono chiaramente eviterei pure di fare diciamo campagne di influencer diciamo di seguito uno all'altro questo perché a meno che non abbiate veramente tanti soldi da diciamo da spendere diventa semplicemente una cosa che non fa più effetto perché non conto creare un evento intorno all'unboxing non conto avere dieci influencer che fanno tutte la stessa cosa insomma lì bisogna un po' studiarla in maniera che abbia senso per voi per il brand e per il target ecco è utile è utile mantenere lo stesso payoff per più tempo o per appunto tutta la vita dell'impresa del proprio brand oppure cambiarlo periodicamente in realtà il payoff dovrebbe essere anche lì un po' una dichiarazione per cui ha senso cambiarla nel momento forse che cambia qualcosa del brand per cui non ci si rispecchia più in quel payoff però non va cambiato soltanto perché come dire per dare una rinfrescata questo vale in realtà per tutta la comunicazione diciamo anche visiva del brand il logo i colori così un rebranding periodico ci sta perché lo fa Coca Cola quindi lo potete fare pure voi però deve essere qualcosa di ragionato e che comunque sia porti a un risultato che ha senso e non che sia semplicemente fatto sull'onda del mi sono stufato anche perché se vi si stufate del payoff magari non era pensato in maniera insomma approfondita quindi io più che cambiarlo periodicamente lo cambierei se proprio ce n'è bisogno quindi se magari il payoff non rispecchia più ciò che c'è dietro al brand allora si va cambiato sicuramente ma altrimenti insomma ci sono payoff che durano da sempre insomma ci sono brand che hanno lo stesso payoff da 100 anni e se lo tengono perché poi quello diventa pure una parte riconoscibile della comunicazione no quindi poi il cambiarlo in realtà rischi che le persone non riconoscono più o comunque che pensino non so sia cambiato qualcosa di fondamentale quindi insomma bisogna sempre fare il bilancio tra se il cambiamento confonde o se non so aiuta a raggiungere più persone o insomma bisogna mettere sulla bilancia tutti i pro e i contro e poi decidere prima dicevi appunto che per raccontare il proprio brand bisogna bilanciare vita privata e raccontare il prodotto contenuti commerciali o più di condivisione c'è una percentuale che bisogna rispettare così dalla tua esperienza e magari come rendersi conto di raddrizzare un po' il tiro appunto magari si sta raccontando troppo della vita privata Allora la percentuale che viene sempre data da chi fa marketing è quella dell'80-20 che è un po' diciamo la percentuale perfetta per ogni cosa quindi 80% di prodotto e 20% di altro in realtà secondo me non c'è una risposta fissa o meglio il problema è che se io entro sul tuo profilo e non capisco che è di un brand ma penso che sia un profilo personale c'è un problema perché chiaramente se non capisco che tu stai vendendo prodotti o che stai promuovendo prodotti vuol dire che io non mi fermo nemmeno non mi viene nemmeno in mente di magari guardare o cercare il tuo negozio quindi diciamo il bilanciamento secondo me sia quando chi entra nel profilo che sia la pagina facebook che sia instagram capisce uno cosa fai che tipo di prodotti fai che sei un brand chiaramente questo serve anche la bio di instagram può aiutare oppure nel caso di facebook non so il banner sopra della pagina e quindi comunque si ha già si instaura un certo meccanismo quindi quando le persone poi ti seguiranno non seguiranno te che sei una persona ma seguiranno il tuo brand quindi saranno come dire anche mentalmente più propensi a vedere che racconti i prodotti quindi il numero diciamo la percentuale secondo me non c'è anche perché poi varia tanto da brand a brand per esempio se guardate il profilo c'era una bolla vedrete che loro in realtà quando si entra nel loro profilo comunque le foto sono quasi sempre di prodotti ogni tanto ci sono delle foto loro dei loro cani poi però nelle descrizioni quasi sempre raccontano anche cose personali però lo fanno in una maniera come dire che usano la propria storia per contestualizzare anche i prodotti per parlare dei prodotti quindi diciamo quello è come dire loro sono bravissime sono bravissime non hanno nemmeno studiato quindi proprio una cosa come dire un talento naturale e che chiaramente non è di tutti però secondo me può essere un esempio da seguire per capire come trovare quel tipo di bilanciamento poi ognuno in realtà ha anche il suo tipo di comunicazione e non deve semplicemente né copiare gli altri né cercare di fare una formula scientifica perché non esiste perché ripeto siete delle persone e parlate a delle persone quindi l'unico modo per arrivare a quell'equilibrio secondo me è provando e sperimentando non c'è altro modo temo ottimo e qua sembrano essere calate le domande quindi intanto ti ringraziamo per questo secondo incontro tutto molto interessante in settimana invieremo le slide ai partecipanti con anche i compiti e gli esercizi per casa che qualcuno ha fatto ma insomma speriamo più di qualcuno questa settimana ricordiamo anche che su indicazione su suggerimento di alcuni iscritti stiamo cercando di capire chi è interessato a condividere queste tematiche magari attraverso un gruppo facebook o un gruppo di lavoro quindi eventualmente scriveteci se siete interessati e ci vediamo quindi il prossimo lunedì sempre alle 18 e l'argomento scottante di lunedì prossimo è proprio la gestione di un e-commerce quindi si andrà anche sul concreto di foto e gestione del cliente e entreremo proprio nel vivo dell'e-commerce e grazie ancora Francesca buona settimana a tutti e ci vediamo il 29 alle 18 ecco grazie a tutti